L'associazione di promozione sociale collettivo Republic presenta Generation Republic, un progetto rivolto ai giovani che ha come finalità quella di promuovere le tematiche della riqualificazione urbana, del riuso e del riciclo. Fino al 15 giugno, che è il termine per la presentazione delle domande, saranno attivi tre bandi di concorso, fotografico per cortometraggi e un bando di concorso per fumetti. Chi può partecipare a questi bandi? I bandi sono aperti a giovani tra i 18 e i 35 anni e in funzione del tipo di bando potranno partecipare giovani residenti nel territorio della regione Marche per quello che riguarda il bando di concorso fotografico, mentre il bando di concorso fumettistico e il bando di concorso per cortometraggi saranno aperti a giovani tra i 18 e i 35 anni residenti su tutto il territorio italiano. I bandi sono pubblicati sul sito republic.it. Per l'iscrizione completamente gratuita è necessario scaricare il modulo di concorso, compilarlo e inviarlo a concorsi 2015-republic.it. Le opere migliori poi verranno premiate con un contributo in danaro. Oltre a queste iniziative numerose sono anche le attività che svolgeranno da oggi fino all'evento conclusivo che si terrà come ogni anno al Pincio di Fano. Il 4 di aprile cominceremo con il dispatch work che si terrà a Pesaro, poi avremo il 19 di aprile a Pergola lo sketch crawl, quindi la giornata di disegno libero nella città di Pergola, poi avremo il mercatino dello swap party a Fossombrone, da lì ci sarà la giornata di allicat, quindi di gara ciclistica tra Fano e Pesaro, arriveremo poi al 3, 4 e 5 di luglio in cui ci sarà il Pincio Republic, quindi il festival che conclude il percorso di quest'anno.